Nel Vallone i carabinieri hanno eseguito tre provvedimenti dell'autorità giudiziaria a carico di altrettante persone. A Milene è stato fermato e sottoposto alla detenzione domiciliare un settantenne, condannato alla pena di sei mesi di reclusione per furto di energia elettrica nel 2013. A Mussomeli è stato sottoposto ai domiciliari un sessantenne, condannato a sei mesi per violazione degli obblighi riguardanti la sorveglianza speciale quattro anni fa. A Campofranco è finito ai domiciliari anche un 58enne, condannato a quattro mesi per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel 2010.